Cosa abbiamo di buono che stasera? Quantozzi si fece ricoverare nella modernissima clinica locale per seguire la famosa dieta del professor Birker Mayer Sampitrilli di Bavaglia Buone! Prelibatezza di Maestro Fassi Cicchiocchi di crema appena montata Glassa di cioccolato fondente Il tesco Quattro gusti prelibati Prodotti quotidianamente Il laboratorio di palazzo freddo Cuore di panna Tutto appena montato da maestri Tu peccato non puoi mangiare Di cuore di caffè Espresso Montati da maestri gelatieri Questa è prelibatezza di palazzo Tu ricorda cosa ha mangiato tua camerata questa sera? Tu mancia! Tu mancia! Tu mancia! Tu sta mangiando! Tu sta mangiando! Pantozzi ragioni rubi Matricola milleuno baramis Dell'ufficio sinistri! Lei venghi qua! Sì signor Megadirettore No va di là! E si muovi! Hanno messo la parete a vetri! Sveglia e caffè Barba e bidet Presto che perdo il tram Amp!